Abbiamo un appuntamento con la storia, il più importante per il nostro futuro. Dobbiamo farci trovare pronti, liberi, coraggiosi e innamorati della Toscana più che mai. La nostra è una terra laboriosa, generosa e fiera. Siamo toscani, gente d'ingegno che parla chiaro e che mantiene la parola data. Gente disposta a farsi in quattro per gli altri. Gente capace di gioire insieme e insieme, quando serve, pronti a affrontare ogni difficoltà. Io sono Susanna Ceccardi e da presidente voglio accompagnare questa terra nel futuro, insieme a voi. Toscana, ci siamo. Il 20 e 21 settembre, alle elezioni regionali, lascia da parte l'ideologia. Scegli la concretezza e il cambiamento. Fai una croce sul nome Susanna Ceccardi e una croce su una delle liste che compongono la coalizione.